Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Anna Tatangelo e l'incredibile somiglianza, la cantante ha provato a nasconderlo, ma la foto in accappatoio fa emergere tutto Anna Tatangelo lascia tutti senza fiato con una foto in bianco e nero in cui indossa semplicemente un accappatoio La cantante continua ad incantare, ma la foto, più che per la bellezza, ha incantato i fan per un'incredibile somiglianza che, finora, era rimasta nascosta Notando attentamente la foto, infatti, i fan hanno notato ciò che era sempre rimasto nascosto Ora, però, per la Tatangelo è impossibile nasconderlo e i fan, sotto la foto, tra i commenti svelano l'arcano mistero A chi assomiglia, dunque, la Tatangelo? Ad un'altra, incredibile bellezza del mondo dello spettacolo Anna Tatangelo, i fan notano il dettaglio, la somiglianza è assurda Anna Tatangelo è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano Diventata famosa quando era adolescente, anno dopo anni, la sua già evidente bellezza è venuta totalmente fuori ed oggi incanta tutti i suoi fan che, ogni giorno, aspettano con ansia le foto che pubblica su Instagram Nell'ultimo periodo, la Tatangelo sta viziando i suoi mostrando anche il suo fisico mozzafiato Oltre ad avere un'ottima genetica, Anna cura tantissimo la propria bellezza seguendo un'alimentazione sana ed equilibrata e allenandosi con costanza tutti i giorni Un fisico che sfoggia anche in accappatoio che ha mandato in delirio il web che, tuttavia, ha notato un dettaglio che ha conquistato tutti Nella foto in bianco e nero, Anna è accovacciata sulle gambe e mostra la bellezza del suo viso Guardando attentamente la foto, inoltre, i fan hanno notato anche la somiglianza con Belen Rodriguez come nota una fan La somiglianza tra Anna Tatangelo e Belardo Riguez esiste davvero? C'è chi nota una somiglianza nei lineamenti del viso e chi, invece, sottolinea la perfezione del fisico di entrambe Quel che è certo è che entrambe sono sicuramente tra le donne più belle del mondo dello spettacolo italiano ed entrambe hanno una lunga scia di corteggiaturi Anna e Belen, inoltre, hanno in comune l'essere mamma, entrambe sono innamorate dei figli, Santiago e Luna sono i figli di Belen e Andrea e il figlio della Tatangelo, NDR Un'altra cosa in comune, infine, è l'essere innamorate, la Rodriguez è innamorata del marito Stefano De Martino mentre la Tatangelo ha ritrovato l'amore con il modello Mattia Narducci Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti